Grazie Sporco l'obiettivo di sudore merdoso. Allora peschici 141 chilometri peschici come san marino praticamente Idiota ovviamente pronotato non dai mili al piazza a peschici è la cosa più bella del mondo però oggi nel complesso tappa Noiosa perché drittoni drittoni poi si entra nel gargano Bello c'è da che il mare ci faccio così noi non ci siamo che tanto non ci può vedere nessuno e possiamo parlare intanto si vede ma Praticamente la tappa è stata contraddistinta la presenza di prostitute Cadaveri cinghiali carcassi di animali in poterefazione con degli odori spaventosi Rusco da tutte le parti ma da tutte le parti però prima molise Dei drittoni assurdi molise mol termoli bellissimi o una domanda per i professionisti leo paes Ragnoli nibali tanto so che ci stanno guardando tutti abbiamo male al culo allora abbiamo comprato una crema ce la siamo anche data vicenda Vabbè non è vero c'è detto questo come facciamo per il mal culo abbiamo due chiappe che sembriamo due Quella scimmia il babuino il babuino Siamo in quella situazione lì quindi quello è l'unico problema le gambe vanno a vedere la sua faccia no perché Secondo me hai crampi anche le orecchie vuoi fiotto si sta dimostrando una moto JL qualche segno di cedimento col vento con Ancora però c'è acceso si 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 vede il mare si vede il mare si Siamo in centro a peschici ascolta qui stiamo diventando noiosi se volete vedere il giro che abbiamo fatto guardate su strava Condividete il video siamo diventati famosi Ciao a domani